Robin Gosens vicinissimo all'Inter è una notizia imprevedibile, nemmeno tanto una notizia che nelle ultime ore ha un incidere fortissimo e io credo, con tutta onestà, che a breve arriverà poi la conferma una notizia che è difficile da commentare perché io nei miei video, l'ho detto più volte la squadra ha dimostrato di poterne fare a meno ciò non significa che necessariamente ne devi fare a meno nel senso, Pezzella e tutti gli altri hanno dimostrato di poter sopperire alla mancanza ma il livello non è quello e quindi questa cessione, soprattutto a gennaio mi confonde, mi confonde tanto e mi confonde così tanto che ho difficoltà a interpretarla perché è una roba talmente assurda letta così alla luce anche del prezzo che ci devo trovare una spiegazione razionale avendo molta stima dei dirigenti dell'Atalanta perché anche il prezzo obiettivamente 30 milioni perché si parla di quella cifra lì è un prezzo di mercato ma chi vende il suo top player al prezzo di mercato? cioè senza farsi pagare il disturbo l'indebolimento chi? non lo so, mi confonde questa cosa e quindi io apro una serie di scenari poi voi ditemi nei commenti qual è secondo voi il più logico la prima cosa che mi è venuta in mente e sono sicuro sia venuta in mente a gran parte di voi è l'Atalanta ha fatto una valutazione fisica del giocatore e ritiene che il giocatore non sia recuperabile e quindi prima che lo scoprano gli altri tanto vale venderlo ora a me non mi risulta che Govans abbia avuto chissà che infortunio devastante però non pongo neanche limiti alla cosa sarebbe sicuramente una spiegazione razionale cioè loro dicono guarda il giocatore tanto quel Govans lì non lo recuperi più quindi tanto vale smerciarlo il prima possibile ok mi puzza però potrebbe essere una spiegazione il secondo scenario è con tutta onestà una calata di braghe clamorosa che non mi piacerebbe però potrebbe anche essere ovvero loro dicono a un certo punto lo Scudetto non lo vinciamo o la Champions non la vinciamo il giocatore comunque 30 milioni ci fanno comodo e lo liberiamo e basta noi abbiamo fatto il nostro 4 mesi senza bene o male siamo dove siamo di conseguenza non ci serve quindi monetizziamo un ragionamento un po' da un po' da vinti se devo essere onesto però non sarebbe neanche la prima volta che lo sento un ragionamento del genere mi lascierebbe la mano in bocca perché ripeto il problema non è la cessione è a gennaio le squadre indebitato le squadre che rischiano di perdere un giocatore a parametro zero cioè non a gennaio non noi è una scelta abbastanza incomprensibile un altro scenario più improbabile però io non metto veramente limite alle ipotesi è che magari in vista di un'evoluzione tattica gli esterni così offensivi non rientrino più nei piani cioè appurato che comunque le galoppate sono tempi andati perché Castagna non c'è più perché Gosens è rotto perché Atobus è rotto Gasperini aveva detto signori reinventiamo li mettiamo con compiti un po' più difensivi e spingiamo di più davanti a quel punto perché tenere la Ferrana in garage vediamola il resto che 30 milioni siano pochini però potrebbe essere anche questa l'opzione oppure l'ultima meno probabile ma non trascurabile è che c'è stato un mix a un certo punto c'è la necessità di trovare sto giocatore per sostituire Bogan nelle liste abbiamo uno che con tutto il rispetto che vi voglio probabilmente al campo non lo vede fino a giugno non ho capito perché non togliamo lui capisco l'umanità capisco dargli gli stimoli però poi business is business abbiamo quindi uno da cedere probabilmente Goses comunque non gli fa schifo prendere molti più soldi quindi magari ha anche un po' sollecitato o ha aperto la cessione abbiamo l'altro esterno che non c'ha mercato e quindi si è si è andata a formare questa roba che non ha soluzione di continuità non è districabile diversamente altre cose non le vedo anche perché secondo me l'Atalanta sul mercato non ci va perché si parlava di Lazzari ma cosa lo prendi a fare se c'è di uno che sta a sinistra sì c'era quell'idea del cambio però mi sembra veramente poco probabile e quindi boh non è una cessione di dire ho quell'esterno che mi piace e che adesso è libero quindi devo per forza fare l'operazione ora perché se no lo perdo di conseguenza tra tutte è forse la più probabile che si sia andato a costruire una necessità di liberare un giocatore più presto deve essere per forza un esterno questo vuole andare via ed ecco la frittata frittata che poi ripeto non è detto che porti male perché comunque ragazzi senza gozzi siamo quarti con una partita in meno quindi tanta roba però il segnale che lanci secondo me non è dei migliori sono pronto a essere stupito perché sono sempre pronto a essere stupito però vi confesso che sono un po' confuso da questa cosa io come al solito vi ringrazio fatemi sapere la vostra opinione ovviamente noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao